Era una persona molto 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 disponibile, una persona che faccio fatica a pensarla come dipendente del comune perché era sempre disponibile, molto attenta al proprio lavoro, con una professionalità estremamente importante. Stava seguendo, penso ancora tuttora così, per il comune diversi progetti importantissimi. Tradita dai sentieri che tanto amava, è morta così Elena Agostoni, 55 anni di Giavera del Montello, conosciuta e amata tra le due comunità per le quali aveva prestato il suo servizio. Era responsabile dell'anagrafe di Vedelago, vice segretario del comune e coordinatore dell'Unione dei Comuni della Marca Occidentale. Aveva iniziato la sua camminata attraverso il Bosco delle Penne Mozze e da qui, dal sentiero del Capitello di San Gaetano, si era inerpicata fino alla sommità. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto. A dare l'allarme due escursioniste che erano con lei, Elena è scivolata, rotolando per 50 metri tra alberi e rocce. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, sui cili di Folline era già in volo l'elicottero del soccorso alpino per soccorrere un ciclista volato da un dirupo per 15 metri. L'uomo è stato affidato dai soccorritori all'ambulanza arrivata sul posto. Soccorsi difficili, il corpo di Elena è stato individuato, la donna subito soccorsa, ma le sue condizioni erano già disperate. Dopo aver tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo non era il Stato che constatarne il decesso. La salma è stata trasportata in piazzola, dove erano presenti anche i carabinieri, per essere affidata al carro funebre. Sotto sciocchi due sindaci di Giavere vede l'ago che da subito si sono sentiti telefonicamente per condividere la tragica notizia. Eravamo entrambi amarezzati, non sapevamo nemmeno cosa poter fare perché oggettivamente siamo ancora allibiti di fronte, anche perché ci siamo lasciati venerdì a mezzogiorno da un colloquio assieme. Elena aveva due figli e spesso parlava di loro, aggiunge Cristina Andretta, ex primo cittadino di Vede Lago. Comune che domani la ricorderà in consiglio. Il sindaco potrebbe anche valutarne la sospensione. Sicuramente le nostre condoglianze famiglie, questo è il minimo, ma credo che faremo di fare qualcos'altro perché ci mancherà un pezzo importante della nostra vita amministrativa.